Ciao a tutti, oggi sono con Veronica Ciao È un modello italiano E cosa succede? Collo bloccato, cervicale e dolore Si, blocca completamente Da che parte maggiormente? Qua, quindi tutta la parte di destra Ok, quindi dolore e cervicale Questo è il motivo della visita Ok, è una dolore cervicale e questo è il problema e il motivo della visita Quindi, puoi sentire qui Let's make a little test, just to check Si, effettivamente è ristretto Yes, there is a lot of stiffness So, let's check together Partiamo da qua Bene, aspetta un pochino Mi fa male Eh si Ok, qui peggio Mamma mia Bene, abbiamo trovato il punto La partiamo da qua Con calma, eh Pianissimo Bene Ok Qui sarà un pochino peggio Ma Prova a rilassarti del tutto, eh Bene Bravissima Ok Ci siamo Tutto bene? Si Perfetto Piano piano Adesso Mani qui dietro Prova a rilassarti del tutto Brava Chiudiamo i vomiti Puoi rilassarti qui Benissimo Prova a rilassarti Brava Oh Perfetto Riprenditi un pochino Alla grande Vieni un attimo seduta da questo lato Lascia una gamba divaricata qui E una qui Brava Perfetto Ferma così Vediamo un secondino Adesso Mani di nuovo qui dietro Brava Stessa cosa Ok Prova a rilassarti del tutto Brava Brava Eccolo Bravissima Tutto bene? Si Un po' faticoso questo Si Ho malissimo Con calma Brava Ci siamo Ancora una tecnica Comoda comoda Bene Adesso Adesso Ci mettiamo Piano piano A pancia in su Testa qua Brava Benissimo Ok E subito A pancia in giù Che cerchiamo un attimino Una cosa in più Vai Leggermente di giù Perfetto Ferma così Brava Oh Oddio mio Ecco That was The issue Wow That's fine Ok Just lean on your elbows Yes Like this Perfect Fai cadere la testa Brava Ti rilassi del tutto Bravissimo Perfetto Non mi fa malissimo così Già da fastidio Mamma mia Allora Rimani con le spalle dritte Fai con calma Brava Oh Ci siamo Adesso Con calma dall'altra parte Brava Ti rilassi del tutto Bene Ci siamo Alla grande Con calma Con calma Allora Già che siamo così Finiamo da questa posizione Quindi braccio lungo i fianchi Senza girarci Bene Così Riposiamoci un pochino Perché è stato un po' Impegnativo Ok Di nuovo di qua con calma Molto bene Brava No può andare Allora Tieni di forte Qui Hold and tight to the edge Right here Fine Ci sei? Sì Vado eh Ancora una Ok Ci siamo Bene Vieni di nuovo un pochino più su Brava E ti rilassi Braccia lungo i fianchi Facciamo una piccola tecnica Ok Ok That's enough Oddio mio Bene Ci sei? Sì È stato un po' aggressivo Mamma mia Non pensavo Sì È stato un po' aggressivo Inizio Sì Sì Let's Cut some slack That's fine Ci siamo già? Pronti? Ok Bene Allora lasciamo un attimo in pace il collo che torniamo tra poco And let's continue with the upper back So Turn this side Vai Vieni da questo lato Bravissima Stendi bene le gambe Perfetto Sì sì Rilassata Brava Ti aiuto io Ottimo Lascia tutto morbido Faccio tutto io Brava Rilassata Perfetto Sì 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 È pronto Ready or ready Brava Lascia cadere le gambe Rilassatissima Abbandona le gambe Brava Ci siamo Oddio mio Oddio Tutto bene? Sì Vai Ma lo ricordavo così Eh Siamo partiti un po' fortini oggi Vado eh Con calma Ti aiuto io Brava Più rilassata che puoi Lascia cadere tutto abbandonato Bravo Eccoli Ci siamo Pausa Ok Si è shocked Ok Take your time Pronti? Ok Giriamo di qua con calma Vai Stendi nuovo le gambe Bravissima E ti rilassi Comoda comoda Brava Brava Lascia cadere le gambe Abbandonatissima Brava E se ce la fai ancora un po' di più Brava Brava E l'ultima Ci sei? Sì ok Ottimo un pochino Più complessa eh Allora Aspetta un secondino Che ci siamo quasi Brava Lascia le gambe giù Abbandonate Più rilassata che puoi Ok Non è finito Resisti Resisti Abbandona le gambe giù Brava Oh Finali Eh Impegnativa Che idea That's what's hard to do Ok Oh mio mio Vai Vai Brava Ancora una Ok Sempre meglio Tutto bene? Vado L'ultimo Brava Ci siamo Pausa Ok Ok Pausa Va bene Riusciamo a farne una Un pochino più complessa? Va bene So Tecnica I'll try to help you Ok It'll be on the occiput La facciamo con una piccola tecnicozza sullo cipide Con calma Bravissima Rilassata Comoda comoda Brava Perfetto Eccoci Oddio Questa era un pochino più impegnativa delle altre Well done Ok Mi sento più rotta She's not feeling the head anymore Ok Aspettiamo un pochino Stiamo andando bene Ok Molto bene Brava Abbiamo già fatto tecniche impegnative We really work a lot with important techniques Yes So we are Reaching a good point Already Yes Ok Bene Tutto intero Ok It's not problem It's not problem It's still one piece Not problem Relax Ok Good Ok And now Let's go Let's go Ok? Va bene? Bene. Piano piano. Ok. 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 Ti guido io. Ok. Ok. bene morbida morbida e rilassata brava uno e due ok that's enough little more no it's enough open a little your mouth yes now relax puoi rilassare un pochino brava eccolo ci siamo ancora un pochino vai rilassa 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 no it's fine here so the last ok yes ci sei? mhm perfetto prova a rilassare completamente la mandibola adesso farla scivolare verso il basso la slide downward yes no worries ok yes ci sei? si sdraiati su questa che ti fa meno attrito sotto aspetta vai pronto vediamo se ti lascia meno attrito riproviamo solleva la testa vai giù vediamo se va meglio ci sei? mhm allora rilassata meglio vero? si si abbandonata bravissima oh Dio mio oh Dio she's out recupera rilassata grande rilassata 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 è ancora lì probably she fully recovered the whole condition of the neck she feels lighter and that's a good news and I would like to check just something else and then it will be fine already let's see let's lower just a little more there bene lean back lasciati cadere la dosa il più rilassata che puoi brava controlliamo qui lascia cadere il corpo bravissima brava brava oh le e uno tutto bene? ok ok l'ultimo brava ci siamo quasi solo questo è solo un piccolo controllo abbandona tutto oh perfetto vada la grande adesso si capiamo a finito ok riprendi un pochino ok quando ti senti bene ti stai stand up e l'ultimo qual è il feedback? come ti senti? come ti senti? però non puoi fare tutti i movimenti possibili un pochino un pochino come un uomo come un uomo perfetto perfetto ok ok so let's thanks our friends let's say goodbye thanks for watching bye bye ciao ciao ciao